Oggi prepariamo le piadine di ceci o, come le chiama Kevin, le piadi panelle. Guardate un po'. Sono senza farina e quindi senza glutine, buonissime da poter farcire in mille modi diversi. Dai, iniziamo! Iniziamo versando l'acqua a temperatura ambiente all'interno di una ciotola. Versiamo quindi la farina di ceci che dovremo setacciare con un colino a maglie strette, così da evitare la formazione di brumi. Iniziamo quindi a mescolare con una frusta, fino a quando avremo ottenuto una pastella liscia. A quel punto possiamo versare l'olio extravergine d'oliva ed il sale a piacere. Continuiamo a mescolare con la frusta. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere, ovvero una pastella ben liscia. Ungiamo con dell'olio una padella e togliamo l'eccesso con un foglio di carta assorbente. Prendiamo una manciata del composto che abbiamo appena preparato e lo versiamo all'interno della padella. La faremo ruotare così da dare una forma sferica alla nostra piadina. Dopo qualche minuto possiamo rigirarlo e far proseguire la cottura ancora un po'. Se necessario rigiriamo ulteriormente. Una volta pronta la posizioniamo su un piatto e copriamo con una campana. In questo modo si manterrà ben morbida. Continueremo in questo modo fino a quando avremo formato tutte le nostre piadine. Una volta cotte le posizioneremo una sull'altra. Sono davvero morbidissime, potete infatti arrotolarle o anche piegarle senza che si rompano. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.